Ancora una volta la parola di Dio ci consegna le giuste chiavi di lettura della storia, della storia di ogni tempo e evidenzia come ci saranno sempre delle opposizioni, delle contrapposizioni, delle resistenze, delle persecuzioni al nostro credo, alla nostra fede nel Signore, ma dinanzi alla quale la fede sarà sempre forte, sarà sempre stabile. Solo che c'è la tentazione di vedere come le opposizioni sono esterne a noi, quando il Vangelo ci dà una chiave di lettura importante e c'è quelle resistenze che sono dentro di noi, che possono essere le dissipazioni, gli obbriachezzi, gli affanni, c'è quelle resistenze che vivono dentro il nostro cuore ed è queste che bisogna più lottare. Spesso siamo protesi a vedere fuori da noi quanto in realtà viene covato dentro di noi e che si oppone alla fede cristiana e per questo la parola ci chiama alla vigilanza, a essere svegli, a vigilare il Signore, a scorgere la presenza di Dio nella nostra vita. Chiediamo allora al Buon Dio questa perseveranza, questa fedeltà, ma anche e soprattutto la gioia della Sua presenza, che siamo chiamati a un'eternità, che è l'eternità in Cristo. Buona Missio.